Cristina De Sole, uniti e liberi, com'è andata questa campagna elettorale? La campagna elettorale non è finita e sta andando benissimo. Noi stiamo proponendo il nostro programma, il nostro progetto ai cittadini di Olbia, siamo ben accolti, abbiamo incontrato varie categorie, abbiamo incontrato dopo i comitati dei quartieri, i presidenti, oggi abbiamo incontrato i rappresentanti degli organi sindacali, CGL e Cislewil. Stiamo imparando tante cose, anche perché fare politica vuol dire identificare il problema e trovare il modo di risolverlo. Il grande problema di Olbia e uno dei più grossi problemi di Olbia è anche la disoccupazione. Oltre il 50% dei giovani sono disoccupati, quindi bisogna trovare anche la formula per fare in modo che Olbia sia di nuovo una città attrattiva anche dal punto di vista lavorativo. Ma come può essere una città attrattiva dal punto di vista lavorativo se l'economia di Olbia si sta bloccando? La vera fortuna di Olbia è che è situata in una zona bellissima che è il Golfo di Olbia. Con il mare, con le spiagge, con le bellezze naturali che ci sono intorno, noi continuiamo a ricoprirla di cemento, continuiamo a portare avanti un piano regolatore del porto, che non è un piano di sviluppo del porto, ma è la rovina. Io ho controllato anche i programmi elettorali degli altri candidati e nessuno dice che il raddoppio della canaletta non è da fare, perché rovinerebbe per sempre la mitilicoltura. È mai possibile che non ci rendiamo conto, che non serve a niente. Bisogna essere corretti, bisogna anche riuscire a dire le cose scomodi, bisogna dire che alcune cose non si devono fare perché si rovina un'economia. E per portare tutto l'anno la gente ad Olbia bisogna non solo dare una programmazione di Olbia, perché Olbia non deve essere una città esterna al mare, ma che si affaccia al mare, così come succede a Barcellona. Il recupero di aree, come è successo a Valencia, dell'area del fiume occupato che è diventata un'area invece pubblica di passeggio. Cioè bisogna ricostruire Olbia, bisogna fare in modo che il progetto di Olbia sia un progetto bellissimo. E solo così il turista potrà avvenire. È inutile dire alla meridiana io ti starò vicino se poi non investi su Olbia, non investi su una città bella, perché chi viene ad Olbia se ne va via immediatamente. Se non allunghi la stagione turistica e non fai in modo che le persone vengano anche al di fuori della stagione, Olbia non creerà più economia. Se l'università, il posto dell'aeroporto non la porti al centro, organizzi i master di specializzazione in modo che la gente venga ad Olbia. Se non fai in modo che il mercato ritorni ad essere mercato, piazza mercato, dopo che ha fatto fallire tutti i negozi che c'erano nelle vicinanze di piazza mercato, è chiaro che il centro storico morirà. Se non ricrei un polo culturale che può essere il teatro dell'Astra, che diventa di nuovo teatro civico, magari, speriamo, di una città, ma come possiamo pensare che Olbia sia una città che rivive? Se non riandiamo nei quartieri, rifacciamo progetti, ricreiamo asili per le mamme che devono iniziare a lavorare, gli rifacciamo i marciapiedi. Come pensiamo che la gente continui a viverci e a stare bene? Bene, noi in questi giorni stiamo andando in gira ad Olbia, le persone ci fermano, ci sta succedendo una cosa bellissima, perché, come sapete, noi abbiamo una lista, che è la lista Uniti e Liberi. Ci sono persone che si affacciano e ci dicono, noi vi votiamo, noi siamo con voi, ed è una cosa eccezionale e una cosa bellissima, non ci crediamo nemmeno noi. Anche oggi sono passata e c'era una signora anziana che mi ha detto, come noi vi vogliamo votare, bisogna cambiare, che ha amministrato fino ad oggi la città. Sono le stesse persone che l'hanno amministrata da vent'anni. E' mai possibile che non abbiamo programmato il turismo? E' mai possibile che il piano urbanistico comunale di Olbia non sia mai stato fatto? Non sono promesse che si devono fare in campagna elettorale, sono promesse che bisogna fare oggi. Tutti i problemi che ci sono oggi sono stati o creati o portati avanti dagli amministratori che c'erano fino a questo momento. E la mia domanda a tutti i cittadini è, dopo che queste persone hanno creato i problemi attuali, è mai possibile che loro riescano a risolverli? No. E' per questo che noi ci prepariamo e ci presentiamo come un'alternativa reale. E l'invito al voto è di votare. Uniti e liberi, Cristina De Sole, sindaco.